pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati se la prima domenica di quaresima ci ha presentato Gesù tentato oggi lo contempliamo trasfigurato così ci viene ricordato qual è il fine di tutto il cammino di Cristo e in fondo anche del nostro la risurrezione la gloria eterna di cui la trasfigurazione anticipo e profezia entriamo in questo testo miei cari che riportano tutti e tre i vangeli sinottici che tra l'altro sono anche concordi nel riportare la sequenza degli episodi che lo precedono cioè abbiamo la confessione di Pietro a Cesarea subito dopo il primo annuncio della passione morte risurrezione di Gesù quindi l'episodio della trasfigurazione Gesù sei giorni dopo tutti questi episodi salì sul monte portando con sé Pietro Giacomo e Giovanni e lì fu trasfigurato ecco Matteo utilizza il passivo del verbo metamorfomai indica proprio la metamorfosi Gesù che cambia forma il suo volto brillò come il sole le sue vesti divennero candide come la luce tanti sono gli echi biblici riferimenti all'antico testamento noi in semplicità diciamo che per un attimo Gesù si manifesta rivela diciamo così apre il fario mostrando quella divinità presente in sé nascosta dalla sua umanità cioè Gesù quell'uomo di Galilea che parlava alle folle che si prendeva cura degli ultimi quell'uomo con le fatiche di ogni uomo incamminato verso la morte è proprio il figlio di Dio è una scena bellissima penso che per quanto uno possa dire parole provare a immaginarla contemplarla sia la cosa migliore cosa ci può dire tutto ciò anche per la nostra vita direi quattro punti tre ve li dico subito e uno dopo il primo la trasfigurazione è stata letta sin da molti padri della chiesa come una grazia preparatoria San Leone Magno diceva la trasfigurazione aveva come primo scopo quello di togliere dal cuore dei discepoli lo scandalo della croce quindi è come a dire una grazia che corrobora che rafforza che aiuta ad affrontare ciò che verrà affinché poi facendone memoria i discepoli possano davvero cogliere che Gesù aveva liberamente scelto quella strada per la nostra vita anche quotidiana questo è un tesoro prezioso perché Dio tante volte ci dà delle grazie delle consolazioni dei segni dei momenti in cui lo percepiamo più fortemente all'opera nella nostra vita ecco quelle sono come delle perle da custodire perché perché ci serviranno a suo tempo quando arriverà la prova la tribolazione la fatica secondo punto la trasfigurazione può essere vista come un invito alla fiducia il fatto che Gesù diretto verso Gerusalemme verso la sua passione morte si sia manifestato glorioso e trasfigurato è proprio un invito a fidarsi di lui a fidarsi di lui anche quando la strada che lui attraversa non è quella che noi avremmo pensato e magari passa attraverso la prova il dolore la sofferenza il dono di sé che non trova contraccambio ecco è un invito forte anche per noi Dio è Dio diceva il cardinale Comastri anche quando cammina nella pazienza nella povertà e nella sofferenza Dio non sarà mai sconfitto l'amore non avrà mai fine e l'unico modo per noi per vincere è stare uniti a lui che è il vincitore e non invito anche alla pazienza quando ripeto non tutto subito è chiaro non tutto sembra evolversi come avremmo pensato ma fidarci che Dio è capace di trarre persino da un male un bene più grande quindi una grazia che prepara un invito alla fiducia e potremmo dire anche un assaggio di cielo e quei discepoli vivono un attimo di paradiso tant'è che Pietro resterà senza parole ecco a volte è bello pensare alla nostra meta al paradiso al cielo così come fa bene ricordare i momenti belli e le grazie belle vissute quando arrivano i momenti di prova san Giovanni Bosco diceva un pezzo di paradiso aggiusta tutto è proprio così pensare alla meta aiuta a ristorarsi un po dalle fatiche del cammino e la meta è bellissima l'eterna comunione con Dio l'eterna festa con i santi con tutti i nostri cari in Dio che ritroveremo e anche vi dicevo importante nei momenti di tribolazione e sconforto richiamare alla mente le grazie che Dio ci ha fatto seguendo un principio molto bello che davano i maestri dello spirito cioè nei momenti di consolazione sappi che arriveranno i momenti di desolazione di prova nei momenti di prova ricorda che torneranno i momenti di consolazione e fai memoria di quelli che già hai anche vissuto andiamo avanti abbiamo Mosè ed Elia come testimoni che compaiono a fianco di Gesù nella loro gloria di viventi in Dio e potremmo dire che confermano che tutto ciò che Gesù sta dicendo e facendo è conforme alle scritture Mosè ed Elia rappresentano la legge e i profeti secondo moderni interpreti essi vengono anche a dialogare quasi a confortare Gesù che riceve da loro anche istruzioni in merito all'esodo che deve compiere ma noi centriamo l'attenzione su Pietro perché Pietro ad un certo punto in preda all'estasi allo stupore alla gioia dice signore per noi è bello stare qui facciamo tre tende una per te una per Mosè e una per Elia cioè Pietro vorrebbe quasi fermare quella scena come a dire fermiamoci qui siamo nella gloria ma ciò non è possibile quel momento di grazia è una consolazione forte per i discepoli per Gesù stesso ma è qualcosa da custodire nel cuore che servirà per attraversare la passione inoltre le parole di Pietro ci dicono anche qualcos'altro ci trasmettono un'esperienza precisa Dio è bellezza è bello per noi stare qui qui dovremmo veramente farci tutti una domanda seria da cristiani quanto la nostra esperienza di che trasmetta che Gesù è qualcosa di bello che siamo potremmo dire innamorati di lui che è il tesoro più grande che abbiamo incontrato quante volte la predicazione è qualcosa di ormai noioso lontano dalla vita concreta astratta o persì moralistica quante volte purtroppo il catechismo è ancora proposto in una forma così noiosa che i giovani non vedono l'ora di scappare quante volte le liturgie sono spente poco curate poca bellezza non traspare quel tesoro meraviglioso che ci ha conquistati e che dovremmo far di tutto per trasmettere che bella invece l'esperienza dei santi innamorati di Cristo come Sant'Agostino che dicevano tardi ti ho amato bellezza tanto antica e tanto nuova che bello riscoprire Cristo come qualcosa di bello l'esperienza di saperci amati da Dio vivere un rapporto profondo con lui come ciò che di più bello c'è nella vita padre cantalamessa diceva in fondo è ciò che succede nell'innamoramento l'altro prima era uno dei tanti ora diventa l'unico il solo che interessi su cui centriamo pensieri e desideri avviene quasi una propria trasfigurazione la persona amata è vista come in un alone luminoso quasi non ci si sente degni di lei ci fa crescere nell'umiltà quelle cose che fino a ieri si facevano col collo tirato ora si fanno con slancio insomma quello che prima si faceva per costrizione ora lo si fa per attrazione ecco lo spirito santo ci attrae sta a noi ovviamente frequentarlo Cristo frequentarlo attraverso la parola i sacramenti vivere quella parola nella carità fare esperienza davvero di lui come qualcosa di meraviglioso e allora sì che la nostra testimonianza sarà attraente attrarrà tanti a lui infine ultimo punto mentre Pietro dice tutto ciò arriva questa nube segno della presenza di Dio che avvolge discepoli e fa udire appunto la sua voce dice questi è il figlio mio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento ascoltatelo il grande comandamento consegnato israele ascolta israele ormai risuona come ascoltate lui lui il figlio la parola fatta carne in Cristo colui nel quale tutte le scritture trovano il loro compimento ascoltare lui imparare da lui seguire lui ecco l'ascolto biblico è quel sentire dalle orecchie quel custodire nel cuore che poi si trasforma in azione esteriore quell'ascoltarlo quel lasciarsi insegnare da lui l'arte di vivere e di amare ascoltare l'altro far spazio all'altro nel proprio cuore nella propria vita tanto difficile per chi è troppo pieno di sé che pensa solo di aver tanto da dire o da insegnare o di saper già e perché seguirlo cosa ci può dire dunque infine la trasfigurazione ecco il quarto punto che vi ho preannunciato la trasfigurazione ci annuncia anche ciò che dio vuol fare in noi vuole trasfigurarci vuole rinnovarci trasformarci in lui divinizzarci la trasfigurazione dunque ci ricorda qual è anche la nostra meta di figli della luce essere trasfigurati in lui e più lo accogliamo e lo seguiamo e più già adesso tutto ciò accade dunque cari fratelli e sorelle dalla trasfigurazione di Gesù grazia che prepara che conforta invito alla fiducia assaggio di paradiso alla nostra trasfigurazione che lo spirito santo porta avanti in noi nella misura in cui docilmente cerchiamo di seguire nostro signore Gesù che dio vi benedica tutti pace e bene Gesù grazie a tutti Gesù grazie a tutti Gesù grazie a tutti